Mancano pochissimi giorni e Gwenda Goria, figlia d'arte di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è pronta a stringere tra le braccia il piccolo Noah. In questi ultimi momenti di attesa, la 35enne si rilassa con gli amici più cari, condividendo con loro la gioia di questa imminente maternità. Le immagini del suo pancione, ormai enorme, sono diventate virali sui social grazie a Federico Fashion Style ed Elia Duran, che hanno voluto immortalare questi istanti speciali nella sua casa a Milano. Federico ed Elia, entrambi legatissimi a Gwenda, l'hanno raggiunta nella sua abitazione nonostante il caldo torrido di luglio, che ha messo a dura prova la futura mamma. La coppia inedita, accompagnata da Matteo, un amico intimo, ha portato una ventata di allegria e spensieratezza in casa Goria. Federico, sempre ironico, ha scherzato su Instagram, rivolgendosi al compagno di Delia, Alex Belli, che si trovava a Napoli, caro Alex. Quando i gatti non ci sono, i topi ballano. Io mi godo la tua durana a Milano. Nelle storie condivise, Gwenda appare radiosa e completamente struccata, con il pancione in primo piano. Federico ed Elia si sono fotografati, mentre formavano un cuore con le dita sul ventre di Gwenda, e lo baciavano, celebrando l'attesa di Noah con tanto amore e affetto. Un momento di pura emozione che ha conquistato il cuore dei fan.